Ben trovati amici di Radio News 24, io sono Alicia Iozzelli, siamo su On Air, interviste e storie. Oggi vi porterò in Sicilia, precisamente a San Piero Patti, in provincia di Messina, per conoscere meglio Natalino, Tino Santi ed Elia Natoli, che sono istruttori di simulatore di rally e ci racconteranno un po' qualcosa della loro attività. Ciao a tutti, benvenuti. Buongiorno a tutti, anche a chi ci ascolta. Grazie di essere insieme a noi. Allora, vi posso chiedere come nasce la vostra passione per il rally e poi come avete fatto a farlo diventare quindi un lavoro. Raccontateci un po' la vostra storia. Allora, nasce per passione, nasce per gioco perché abbiamo iniziato circa tre anni fa comprando un picco simulatore, utilizzando un televisore, una postazione fatta in modo, si può dire, artigianale, grazie anche a ETA Beta Race che ci ha fornito il tutto. E da là poi piano piano abbiamo assemblato dei simulatori professionali, diciamo che si avvicinano per l'80% alla realtà, questo non lo diciamo noi, ma lo dicono i nostri tanti piloti professionisti di rally che vengono da noi, si allenano, il simulatore serve tantissimo ai piloti perché ti tieni in allenamento. E da là diciamo che dalla passione abbiamo fatto il primo centro simulazione, io direi, in Italia e poi alla fine dopo di noi hanno fatto altri sei centri simulazione in tutta Italia e noi siamo gli unici nel centro sud. Cioè l'unico centro simulazione da Roma in giù lo trovi a San Piero Patti e per noi è una bellissima soddisfazione tenendo presente che è un paesino piccolo, ma che è circondato da molti appassionati di rally e questo ci permette di lavorare. Dalla passione siamo passati al lavoro. Noi ci giriamo tutti i rally importanti, portiamo in giro i nostri simulatori, facciamo conoscere sia i piloti che i non piloti, gli facciamo provare l'adrenalina della macchina da rally. Ecco, bellissimo. Io so anche che il vostro centro è riconosciuto dal CONI, questo è molto importante, vero? Sì, è importantissimo perché diciamo noi negli anni volevamo raggiungere questo obiettivo, quello di avere un riconoscimento sportivo e tra l'altro è stato riconosciuto non come sport amatoriale dilettantistico, ma come sport professionale. Quindi questo sta a significare diciamo la realtà e la professionalità dei nostri simulatori. Ecco, bellissimo Natalia. Raccontateci anche un pochino come siete organizzati voi tre, come funziona proprio quindi questa simulazione, raccontateci anche come funziona lo strumento, la tua macchina. Sì, allora io faccio raccontare da Elia che è il tecnico diciamo del simulatore, è quello che li monta, li smonta, li aggiusta, li assembla e sa più di me e di Tino sicuramente. Ecco, benissimo. Mi può ripetere la domanda e non l'ho sentita bene, scusate. Sì, come funziona quindi proprio in particolare il vostro simulatore? Quindi da cosa è composto? Quanto è grande? Raccontaci un po' queste cose, come si utilizza? Abbiamo praticamente noi, chiamandosi simulatore, simuliamo la postazione di guida del pilota della macchina da rally. Quindi abbiamo esattamente le stesse misure, le stesse distanze del posto guida della macchina da rally. Nel nostro caso abbiamo delle misure prese da delle macchine di gruppo R5, che sono diciamo le regine del campionato nazionale che troviamo nel nostro campionato italiano. Che poi comunque, avendo queste misure, riusciamo anche a raggiungere le distanze tra pedaliera, simulatore, sedile. Rispetto alla macchina da rally vera e propria, diciamo che si può muovere con delle staffe quindi si può fare avanti e indietro, mentre quello delle macchine da rally no. Però così per adattare ai vari, diciamo, piloti e soci che vengono qui da noi, riusciamo a portarle avanti o indietro in base alla loro lunghezza. anche lo sterzo fa la stessa funzione e cambio freno a mano li troviamo proprio come nella macchina da rally accanto allo sterzo, avendo un cambio sequenziale e un freno a mano pneumatico. Anche la pedaliera funziona come quella diciamo vera, dove si differenzia dalla macchina stradale perché abbiamo il pedale del freno dove abbiamo una pompa idraulica che serve abbastanza pressione, fino a 120 kg di pressione per poter frenare. C'è il movimento. C'è il movimento che simula la derapata, l'aderenza delle ruote sull'asfalto, sulla terra, sul fango, sui dossi, sul cambio asfalto. Abbiamo anche il, come dire... l'autobloccante. L'autobloccante allo sterzo e anche nello sterzo riusciamo a percepire quei cambi di asfalto, tipologie di terreni che andiamo ad affrontare nella prova speciale. Cioè, quindi proprio come essere in strada e simulate qualsiasi cosa. Bellissimo. Sì, sì, riusciamo ad avere questa fortuna di riuscire a simulare quasi tutte le sensazioni che si trovano sulla macchina da rally. Bellissimo. Sì, sì. Elia, ti posso dire come funziona, quindi, se uno volesse provare o usare il vostro simulatore? Quali sono i contatti? Come ci si rivolge a voi? Come funziona l'iter? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook ed Instagram, ASD Rally Sicilia, dove ci possono contattare messaggiando, dove lì saranno forniti i nostri numeri di telefono. Tramite prenotazione ci mettiamo d'accordo e li prenotiamo qui al nostro centro simulazione. Ovviamente saranno muniti di tutti quanto riguarda le sanificazioni e l'andamento del DCPM che ci sono per ora per quanto riguarda le norme anti-Covid-19 e quindi dopo che abbiamo eseguito tutte queste manovre, li facciamo salire a bordo del nostro simulatore e noi andremo a spiegare come funziona la postazione di guida. Come sulle macchine, diciamo, normali, anche qui abbiamo la frizione, serve la frizione per partire e via dicendo. Andiamo comunque a spiegare tutto. Non è una PlayStation che ti fa fare curve a 200 km orari. Quell'errore che fai qua è uguale a quello della realtà e quindi all'inizio non è facile. Volevo aggiungere anche un'altra cosa se mi permetti. Certo. Che online con la piattaforma Real Rally che è una piattaforma internazionale seguita da Federico Bologni che poi è quello che mette dentro sia le macchine sia le prove speciali che sono tutte reali perché praticamente tieni presente che molti meccanici utilizzano i nostri simulatori per fare gli assetti e poi portarli nella realtà che praticamente corrispondono. Qua si assetta in newton e poi loro trasformano in newton in cric. Devo dire che quest'anno purtroppo il covid ha fermato anche noi. Noi pur essendo una realtà nata tre anni fa nel 2019 ci siamo presi una bella soddisfazione che è stata quella che il nostro team Real Rally Sicilia ha vinto il campionato italiano di rally online e quindi per noi è stato un immenso un immenso piacere sia per noi per la struttura ma anche per i nostri piloti che abbiamo che ci seguono e che devo dire la verità sono in continua crescita perché in Sicilia come tu ben sai siamo partiti si parte sempre in ritardo però cerchiamo di superare tutti gli ostacoli. E quindi sta prendendo campo anche il rally benissimo allora io vi ricordo che siete anche su youtube quindi magari possono vedere anche qualche video come ASD Rally Sicilia lo stesso contatto e niente allora io vi ringrazio davvero tanto per essere stati qui insieme a noi e averci fatto scoprire il vostro centro di simulazione rally. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi, buon Natale a voi e buon Natale a chi ci ascolta. Grazie. Grazie mille e auguri. E invece voi amici ascoltatori di Radio News 24 mi raccomando rimanete ancora qui con noi su On Air per le prossime interviste e storie.